Isola dei Famosi, l'appello di Lucas Ilari Blasi, dammi una possibilità. Lucas Speracchi, extronista di Uomini e Donne, vorrebbe partecipare a un reality. Tra i suoi preferiti, spunta l'Isola dei Famosi dove potrebbe non solo mettersi alla prova fisicamente, ma anche vivere un'avventura mozzafiato nella natura. Nonostante la partecipazione a Uomini e Donne gli abbia regalato grande popolarità. Lucas ha poi scelto di dedicarsi ad altro occupandosi stabilmente di fitness. E. Infatti, sul settimanale Nuovo TV, Lucas Speracchi ha rivolto un appello a Ilari Blasi candidandosi come concorrente, Ilari Blasi. Dammi una possibilità. Sarebbe il mio posto, d'altronde vivo immerso nella natura detto l'extronista. Amici 22, cricca in lacrime per l'addio. La promessa, a sorpresa, di Isabel, ecco cosa ha detto. Isola dei Famosi, ti piacciono le donne o gli uomini, la risposta shock di Cristina Scuccia. Sui social Lucas ha un vasto seguito e, oltre a mostrare il fisico scolpito, non nega di aver voglia di partecipare a diversi reality. Ma, in particolare, l'isola è quello che lo stuzzica maggiormente. L'edizione 2023 è partita lo scorso 17 aprile e dovrebbe andare avanti fino a metà di giugno. Il cast dei concorrenti è formato, ma non sono da escludere nuovi arrivi, sarà accolta la richiesta di Lucas.